Adesso facciamo inchino alla corte, allora porto la gamba destra indietro e la sinistra molto molto divaricata, il busto viene in avanti, a questo punto sto lavorando sul tallone, ok? E spingo verso basso, allora tutta la concentrazione è con il mio peso verso basso, ok? Busto in avanti, gluteo indietro, sto lavorando sul tallone, ok? Spingo verso basso, 2, 3, 4, ancora 5, 6, 7, ancora 8, vai, 8, 7, 6, spingi, 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 comincerai a sentire proprio perché si attiva sotto il gluteo. Adesso guarda che facciamo, saliamo e scendiamo, 8, spingi, 7, 6, 5, puoi sollevarti, ancora, 3, 2, e 1, rimango giù, spingo giù, spingo giù, spingo verso basso, verso basso, basso, ancora, continuiamo, è 8, 7, 6, 5, 4, 3 e ci solleviamo, è 1, 2, push, 3, 4, ottimo, 5, 6, 7 e 8, lo senterai sicuramente nel gluteo, lo senti? La cosa importante è proprio di incrociare tantissimo indietro, portare il busto in avanti, ok? Il busto in avanti, sto spingendo sui talloni verso basso, continuiamo, adesso andiamo, spingendo verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso sollevamoci, su e 2, spingi sul tallone, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, riscendo molleggiando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, ci siamo quasi, dai, 4, 3, 2 e solleviamoci, e 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, wow, eccellente, l'hai sentito? Perfetto, allora andiamo avanti con il prossimo esercizio con Turbo Gag. Ok, questo esercizio si chiama un affondo con calcio, allora portate le gambe destre in avanti e faremo 15 per le gambe, ma in questa maniera, allora, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, spingo su tallone, 4, spingo su tallone, 5, ancora 10, vai, 9, vai, 8, vai, 7, ancora, 6, 5, and up, 4, 3, poi cambiamo gambe, ancora, sorridi, and, ultima, si sentono questi, si sentono tantissimo, portate le gambe sinistre in avanti, ok, genocchio sopra il tallone e spingo, 1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, grandi sorrisi, spingo, 6, vai, 7, 8, 9, 9, 10, 1, 2, 3, 4, e 5, questo veramente si è sentito, ecco perché si chiama turbo gag e non gag semplice, ok, gravissimi, eccellente questo lavoro di oggi e ti aspetto al prossimo allenamento insieme con la gym e il turbo gag. Allora, andiamo a fare un allenamento per il nostro interno coscio, è molto veloce, ok, perché è molto breve ma molto intenso, e andiamo a fare un grand plié in chiusura però, così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura, quando chiudo devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno coscio, diventare molto compatta, ok, così, 1, 2, 3 e chiudo, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, squeeze, viene meglio in italiano che in inglese, squeeze, su, scendo, 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 squeeze, scendo, scendo, e chiudi, vai, 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 grandi su, easy, e tiro, tiro, tutto, anche abdominal, tiro tutto insieme e su, tiro, e su, e su, e su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, Chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2 e 1, relax, come ti ho detto, breve ma molto intenso e andiamo sul prossimo esercizio insieme e spero che ti stai trovando molto bene con il mio gag turbo. Se chiedi a qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti darà una parola, squat, fai squat, squat è non finire, squat con carichi, squat in ogni salsa, però io voglio fare una squat un po' diversa perché i squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare uno squat particolare, allora scendi giù, ok, a questo punto non ci risolviamo più e noi avanziamo 1, 2, 3, 4 e saltiamo piccoli jump squat indietro, poi sinistra, 1, 2, 3, 4, indietro, poi destra, 1, 2, 3, 4 e stai basso con il petto, ok? Indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado, talone, talone, e ancora, talone, talone, sinistra, destra, vado, vado, talone, vado, indietro, ancora quattro, vado, destra, sinistra, destra ancora, ultima 2 e ultima, indietro, eccellente, per questo turbo gag, se volete farlo un'altra volta, farlo pure o concatena questo esercizio un'altra ancora, ma farlo almeno più cinque minuti al giorno per avere il massimo del tuo corpo e perciò della tua vita, alla prossima, ciao! Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat, per oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato, allora partiremo con le gambe incrociate e poi quando affondiamo, affondiamo con un piccolo salto in uno squat, su, chiudo, giù, squat e ogni volta incrocio l'altra gamba in avanti, ok? Destra avanti, scendo giù, sinistra avanti, scendo giù, su e indietro, ok? E ogni volta ricordati proprio di affondare sui taloni, ok? su e squat, e su e squat, interna coscia e glute, interna coscia e glute, continui, 8, scendo, 7, scendo, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, continui, 4, 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, eccellente, lo potete anche sempre ripetere con TurboGag ogni esercizio può essere ripetuto ad infinito, volendo, rispetto al prossimo esercizio insieme passate una bellissima giornata questo esercizio è una nuova plancia, sempre chiamata Cocodrillo ci mettiamo in avanti, immaginate di finire lateralmente, così 1, 2, 3, destra, sinistra addominali tesi, mentre viene in avanti, continui 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, ferme 1, 2, 3, ferme ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eccellente buon lavoro, ci aspettiamo nel prossimo esercizio insieme 2, 3, 2, 1, eccellente